E' meravigliosa la coreografia della curva sud, un diavolo che ipnotizza, un diavolo statuario, un diavolo fiero a guardare negli occhi alcuni dei tifosi bianconeri, non il vero e proprio settore ospiti ma alcuni dei tifosi bianconeri che si trovano al terzo anello verde nell'immediata vigilia di questo Milan-Juventus. L'unico, però e assoluto, derby d'Italia fra la squadra che ha vinto di più in Europa e nel mondo a livello di squadre italiane, il Milan, e la squadra italiana che ha vinto di più in Italia, la Juventus. Altri artifici non ci interessano e non ci riguardano e storicamente non hanno valore. Vediamo il cross della Juventus, il colpo di testa e il gol. Subito gol per Mandzukic. Cross da sinistra. Mandzukic ha preso il tempo a Riccardo Rodriguez e ha insaccato. Milan che deve redistribuirsi, Milan che deve tornare a presidiare bene le due linee. Il colpo di testa di Mandzukic ancora. Suso, il tiro, Cesni. Andiamo Esus, punta Esus, punta Esus, punta Esus, punta Esus. Gran corsa di Esus, la trasvolata di Esus, parla dentro Higuaín, Higuaín, Mani, 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 Castiglieco. Ma cosa? Addirittura fallo a favore della Juventus. Ma cosa? Ma cosa? Protesta Higuaín. Vediamo. Mani. 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 Va a vedere il VAR Mazzoleni. Andiamo. Ehi, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Vediamo. Higuaín contro Cesni. Parte il Pipita. Palo. Palo del Pipita. La deviata Cesni sul palo. La deviata Cesni sul palo. Quando hai il sangue argentino caliente sul rigore. Ancora Benatia che fa la palla lunga per Alexandro. Lascia correre l'assistente. Alexandro. Alexandro mette in mezzo. La parata di Ciccio. Occasione di Cristiano Ronaldo. Stiamo lasciando libera la Juventus di attaccare. Parte di bala. Parte di bala. Palo. Palo è fuori. Rimessa dal fondo. Palo è fuori. Volevano l'angolo i giocatori della Juventus. Va Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo salta. C'ha la Noglu. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il tiro. Gigio. La para. La prende. La tiene. Vai Gigio. Vai. Dai. Subito ragazzi. Dai. 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 Proviamoci. Che sì. Che sì. Con coraggio. Higuain. 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 La porta di là. RR. 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 Attento RR. RR. Il tiro alto. Disturbato da Mantukic dietro Riccardo Rodriguez. Bentancur. Matuidi. Attenzione. Arriva Cristiano Ronaldo. È troppo alto il cross di Matuidi. Laxalt. Ti prego. Laxalt un po' indeciso su questa palla. Pressato da Chedira. Non riesce a disimpegnare al meglio. Cancelo. Si avventa verso la nostra area. Cancelo. Grande parata di Gigio. E i gol di Cristiano Ronaldo. Confusione totale da parte nostra. Rivediamo. Cancelo. Cancelo. Calcia su Donnarumma. E poi sul tap-in. Cristiano Ronaldo. Segna il suo primo gol a San Siro. Non l'aveva mai segnato a San Siro. Peccato. Ancora Cutrone in vantaggio. Colpo di testa di Benatia. Protesta Higuain. Protesta Higuain. Si arrabbia. Higuain viene ammonito. Viene ammonito. No, 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 no. Rosso. Rosso per Higuain. Higuain. In preda ad un Raptus che non ci piace. Higuain è arrivato troppo nervoso. Troppo carico a questa partita. Alessio portalo via. E tutto è finita. Abbiamo perso 2-0 contro la Juventus. Abbiamo perso la partita. C'è la coda purtroppo dannosa dell'espulsione di Higuain. Ma non abbiamo perso la faccia nella prestazione. Juve che si è confermata più forte. E Milan che resta un punto dal quarto posto. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.